Good morning Milano, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti, ben ritrovati lunedì 10 giugno 2024, siamo qui su Crystal Radio 96.2 FM, Dub Plus in tutta la Lombardia e anche le formosissime app per iOS, Android e il sito internet, ma anche ricordatevi sempre che su Spotify potete riascoltare tutto quanto. Se oggi c'è qualcosa che vi interessa, magari ve lo perdete o magari siete distratti un attimino, ci sta, ci mancherebbe, potete poi tranquillamente riascoltare tutto su goodmorning.milano.it che è collegato al nostro Spotify, quindi rivedere e riascoltare un videopodcast, la nuova frontiera del podcast è il videopodcast dove potete anche vedere me ma soprattutto poi vedere gli ospiti che vengono qui in trasmissione a trovarci, a raccontarci un po' quello che è. Oggi dicevo è lunedì, iniziamo la giornata insieme e iniziamo anche la settimana insieme come sempre, lo sapete, come sempre dal lunedì al venerdì, tutte le mattine qui su Crystal Radio. Come state? 331-78-5355, il numero a cui potete rispondere a questa domanda, anche dirci cosa avete fatto nel weekend, siete stati... uno sì, uno no di voi non è andato a votare, quindi devo beccare chi è stato, no no, perché insomma sono un po' arrabbiatino sta come quale. Un po' bassa l'affluenza, un po' troppo bassa, anche se poi vedendo le medie europee in realtà siamo in media, anzi siamo più alti di altri paesi, però insomma non è che Marco Muno è in mezzo gaudio. Vabbè dai, iniziamo con la musica che è meglio, iniziamo con la music. I Culture Club con Karma Chameleon, sì, il gruppo quello lì, quello con Boy George, lo ricordate, sì, sono quelli di Culture Club. Comunque questa è la musica di Crystal Radio, ovviamente oggi non possiamo che aprire parlando di elezioni, come è andata lo sapete, i dati a livello nazionale ci sono su tutti i giornali, ma quello che a noi interessa non è tanto il livello nazionale, dove ricordiamo comunque che il partito più votato è stato quello appunto di Fratelli d'Italia, seguito dal PD, Fratelli d'Italia con il 28,85%, il PD con il 24,6%, poi Movimento 5 Stelle 9,89% e poi Forza Italia a 9,72% che supera la Lega di Salvini a 9,15%, chiude Alleanza Verdi e Sinistra a 6,62%, fuori allo sbaramento del 4% invece il partito Stati Uniti d'Europa e Azione che si fermano rispettivamente al 3,73% e al 3,31%, poi il 2,19% per pace e terra e dignità, seguito dalla Libertà l'1,23% e poi tutti gli altri sotto l'1%, a parte consigliare a Calenda e a Renzi che forse quando stavano insieme era meglio per loro, lo dico, è più che altro perché la matematica non è un'opinione, ma soprattutto la cosa interessante invece è capire come ha votato Milano, perché non interessa vedere come ha votato Milano, Allora, nella circoscrizione del Nord-Ovest il più votato è stato il presidente del Consiglio Meloni con 200.000 preferenze e il 31% che va a Fratelli d'Italia, nella circoscrizione Nord-Ovest, secondo il PD con il 22%, Strada con 84.000 preferenze e Gori con 69.000 preferenze. La Lega poi 11% con Vannacci che prende 74.000 preferenze, Forza Italia 9% Tajani con 36.000 preferenze e in fondo poi la Salis con WS 7% che prende 35.000 preferenze. Ma dal sito del governo si può sapere cosa ha votato proprio la città di Milano, o meglio la provincia, vediamo, tra le tese la chiamano ancora provincia interno, vorrei ricordarti che esiste la città metropolitana di Milano, non più la provincia di Milano, ma comunque fa niente, accettiamo la dicitura di provincia. E come vanno le cose in provincia di Milano? Allora, sezioni sono 2884 su 2894, quindi mancano solo 10 sezioni e i dati di 10 sezioni mancano, ma quindi sono praticamente definitivi. Quindi il partito più votato nella provincia di Milano è il Partito Democratico con il 27%, seguito da Fratelli d'Italia con il 26-8%, quindi molto molto vicini ai due partiti, Forza Italia al 9-13%, Alleanza Verde e Sinistra con l'8-76%, la Lega quindi viene superata anche da Alleanza Verde e Sinistra, oltre che da Forza Italia, e si ferma all'8,51%, seguita a ruota dal Movimento 5 Stelle al 6,49%, e poi Azione e Stati Uniti d'Europa, che qui a Milano avrebbero superato lo sbarramento del 4%, perché arrivano rispettivamente al 4,89% e al 4,86%. Quindi, come sempre, Milano non è specchio della nazione, come sempre non è neanche specchio sulla sua circoscrizione, perché se già usciamo dalla provincia di Milano e andiamo sulla circoscrizione nord-ovest di cui Milano fa parte, i dati sono completamente dal contrario di quello che abbiamo visto, cioè sono veramente molto molto diversi, a differenza della città di Milano. Io dico sempre questo, facciamoci un po' di domande su che cosa significa Milano per la nazione, per la regione Lombardia, quanto è, cioè questa diversità è importante per tutti, oppure potrebbe essere sfruttata in maniera migliore per tutto il comparto? Sicuramente non cambia il traffico. Gali con Casa Mia, 7 e 25 minuti, oggi è lunedì 10 gennaio. Abbiamo parlato di elezioni europee e non ho parlato di elezioni amministrative comunali, anche se sono 68 i comuni su 133 della città metropolitana di Milano che sono andati al voto, appunto, anche per cambiare il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Non ho ancora i dati, perché? Perché inizia alle 2 lo scrutinio, cioè lo spoglio delle schede per le elezioni comunali inizia oggi alle 2, e quindi non si hanno ancora dati, se non quello dell'affluenza che è intorno al 60 e 61%, media dei comuni, appunto, che vanno dei 68 comuni su 133. Di questi alcuni sono comuni sopra i 15.000 abitanti, vi ricordo, Cesano Boscone, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Rozzano, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio. Questi sono alcuni, appunto, sono i comuni sopra i 15.000 abitanti, poi ci sono 57 comuni sotto i 15.000 abitanti, tra cui di tutto, cioè si va da Albairater, Conaterluno, Assago, Mesero, Morimondo. Morimondo sono i 1024 che vanno a votare, scusate che sono gli abitanti, no, no, questi sono gli abitanti, non sono i 1024 abitanti Morimondo, ci sono. Comunque tanti, Trezzano Rosa, 5.000 abitanti, poi, che sappiamo, Vizzolo Predavissi, 3.800 abitanti, no, credo che il più basso sia Morimondo con 1024, sì. Sì, 1024 Morimondo, Ozzero, 1.400, penso invece, comunque. E comunque, questi sono i voti, si andrà a votare, appunto, in questi giorni, cioè, scusate, si è andato a votare ieri e l'altro ieri, e oggi, dalle 2, ci sarà lo scrutino, lo spoglio, lo spoglio delle schede. Poi sapremo, appunto, come questi 57 comuni, più quelli che sono andati, appunto, alle elezioni sopra i 15.000 abitanti, quindi, in totale, abbiamo detto quanti erano, 80 e qualcosa, 60 e qualcosa, ok, 63, se non sbaglio, giusto, 68, 68 comuni. Oggi, dalle 2 in poi, sapremo i risultati. Risultati, appunto, che poi vi daremo anche in aggiornamento domani, sicuramente, che andremo a leggere, appunto, tutti i nuovi sindaci o le conferme che ci sono state. Insomma, tutto questo, grazie, appunto, ai giornali. Oggi tanti ospiti con noi, li sentiamo sicuramente, li vediamo sicuramente più tardi, perché adesso andiamo ancora con un po' di musica e poi torniamo qui sempre, perché, insomma, come vi dicevo, gli ospiti sono tanti, parliamo di tante cose interessanti, anche situazioni da tenere sott'occhio e magari che possono anche interessare sia noi che i nostri amici animali, perché, a vero, dopo ve lo spiego, dopo ve lo spiego con calma. Intanto andiamo con un po' di musica, poi ne riparliamo. Musica, due consigli per gli acquisti e poi torniamo qua ancora a parlare, a leggere i giornali, a parlare anche del temporale. Ieri sera, cosa è avuto giù? Com'è la vostra macchina? Piena di sabbia? Ecco, tutte le macchine sono così. Un disastro, un disastro. Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare 10 giugno, 7.35, di nuovo qui su Cristal Radio. Questo è Good Morning Milano 331 7853555, il nostro numero di WhatsApp. Attendiamo i vostri WhatsApp, scriveteci pure qua davanti al computer aperto. E siamo qua, pronti a ricevere tutti i vostri messaggi. Oggi è lunedì, ve l'ho detto, è l'inizio di settimana e quindi quando inizia la settimana è sempre il momento giusto di dirci buon lavoro. Ebbene sì, ce lo diciamo tutti i lunedì, anzi ce lo dice Filippo Poletti, il top voice di LinkedIn, con lui che tutti i giorni racconta di lavoro, di notizie sul lavoro nel mondo e in Italia tramite il suo profilo LinkedIn. E lo fa, come dicevo, tutti i giorni e tutti i lunedì invece lo fa qui con noi, con il buon lavoro. E quindi andiamo a ascoltare della via la voce di Filippo Poletti, quali sono le notizie, magari soprattutto anzi, le buone notizie sul mondo del lavoro. Perché insomma un po' di positività ci vuole sempre e grazie a Filippo che ce la porti come sempre tutti i lunedì qui in trasmissione con noi, con il tuo buon lavoro. E quindi non posso dirgli una cosa, Filippo. Buon lavoro, Filippo. Filippo Poletti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è Sinner. Chi è il numero uno al mondo del tennis? Da oggi, lunedì 10 giugno, è Yannick Sinner. 2018. Allora Sinner aveva 17 anni. E pensate un po' che cosa dichiarò a un collega giornalista. Diceva, il mio sogno è diventare il numero uno al mondo. Vincere tanti slam, però aggiungeva senza fretta. Io ho ancora tanto tempo, sono giovane e secondo me sto facendo bene. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Chiudeva. Dunque, quando in azienda parliamo di vision, quando parliamo di mission, quando parliamo di execution, citiamo queste parole, queste bellissime parole di Sinner del 2018. Sinner appunto, 17enne. Complimenti. La seconda parola chiave della settimana è circolarità. Perché mai buttare via gli arredi ancora in ottime condizioni? In occasione, per esempio, dell'apertura di nuovi uffici, laddove i nuovi uffici non siano così capienti per contenere tutti quelli presenti appunto nella vecchia sede, bello, bellissimo esempio. Da dove arriva? Da Parma, da chiesi farmaceutici. L'azienda ha regalato, pensate un po', oltre 300 arredi, tra sedie, scrivanie, armadi, cassettiere e altri oggetti. Due gli obiettivi di questo progetto ribattezzato circularity, circolarità. Il primo obiettivo è sviluppare, come dice il nome, l'economia circolare. Il secondo obiettivo è quello di creare, anzi di rafforzare, il legame con la comunità locale. Bell'esempio anche questo. La terza e ultima parola chiave della settimana è animali domestici. Novità nel contratto di Ducati. Assieme allo smart working senza limiti, assieme al premio di risultato di oltre 3.300 euro, c'è anche la possibilità di usufruire di permessi, di ore di permessi, per prendersi cura degli animali domestici. In più, agevolazioni, pensate un po', del 35% per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico. Borgo Panigale, dunque, mette la quinta, la sesta. Accelera. E allora, buon lavoro a tutti, ricordatevi di iscrivermi, di iscrivermi dove? Su LinkedIn o LinkedIn e di raccontarmi le vostre belle esperienze legate al mondo del lavoro. Ancora una volta, buon lavoro a tutti! Sì, non hanno aspettato tutta la vita, anche quelli che in questo weekend, soprattutto ieri e l'altro ieri, hanno aspettato i concerti, però sono stati tutti quanti manomessi in un modo o nell'altro dal maltempo. Sto parlando non tanto di Vasco sabato, che in realtà sì, si è preso un po' di acqua all'inizio, proprio una leggera spruzzatina, ma poi tutto a posto, non è successo niente, anzi non si sono neanche accorti, devo dire la verità, ma invece molto peggio è andata al palco dell'Arco della Pace, al Party Like a DJ, che si è visto a un certo punto il rischio di doverlo, farlo saltare, pensate che la piazza avrà sui 4.000 persone e i vigili urbani dicono che in un attimo da 4.000 persone sono scese a 400 persone, cioè così in un attimo, perché ovviamente fuggi fuggi, poi per fortuna è tornato a posto e quindi la serata si è andata a fare bene, invece ha annullato il concerto della filarmonica della Scala in piazza Duomo, eh sì perché il temporale ha lagato il palco e quindi ha annullato il concerto della filarmonica della Scala in piazza Duomo. Musica classica, le gira, comunati dall'andestino, vittime del temporale violento che si è scatenato su Milano, così scrive Repubblica Milano. Non è stato cancellato, causa maltempo, infatti il tradizionale concerto della filarmonica nella Scala in piazza Duomo. Il numifragio, scoppiato poco prima dell'inizio del concerto, ha lagato il palco, quindi l'unica possibilità si è da quella di cancellare l'esibizione diretta appunto da Riccardo Chalì ed Emanuele Tiek Navarion. Niente, quindi con rammarico annunciamo che non ci sono le condizioni per andare avanti. Questo, ho detto al microfono, le condizioni del palco non lo consentono, questi sono strumenti preziosi, non elettronici e quindi non si poteva andare e fare altro. Poco distante, all'arco della pace, in Parchilac e Digi, secondo i presenti, anche secondo i vigili urbani, appunto in un attimo si è visto ridurre da 8.000 persone, scusate, a 400 quelle che sono in attesa appunto dell'inizio del concerto. Poi dopo, insomma, per fortuna tutto posto, la polizia locale non segnala particolari problemi salvo diverse strade allagate e qualcuna temporaneamente chiusa, ma tutto poi è rientrato in un attimo. Sappiamo appunto, abbiamo visto anche ieri sera, cioè veramente che cosa non è venuto giù, ma la modalità era pazzesca, cioè qui c'era la via che era praticamente un phon, un vento che tirava e l'acqua che andava in orizzontale, quindi insomma qualcosa davvero di impressionante e che ha lasciato un po' sbigottiti quando l'abbiamo visto, però era un po' così. Questo è stato quello che è stato il maltempo, oggi giornata invece di sole, per fortuna quindi non dovrebbero esserci problemi, speriamo perché questi temporali fanno più danni che altro, ma soprattutto rompono le scatole, diciamolo, oltre a farci diventare matti perché non sai mai come uscire, non sai mai cosa fare, non sai mai come muoverti in questa città. Una modalità potrebbe essere così, e ve lo dà come consiglio, quella di ascoltare Crystal Radio e di ascoltare la musica di Crystal Radio. Adesso è il momento di Blondie con Heart of Glass. Blondie, Heart of Glass alle 7.49 minuti, Crystal Radio, lunedì 10 giugno, lunedì e buongiorno e buon inizio settimana da qua di Bergamo, buongiorno per me oggi, è un giorno bellissimo anche se è lunedì perché è il mio compleanno e allora tanti auguri a quella di Bergamo, adoro il mio compleanno, significa che anche quest'anno non sono morta, già questo è effettivamente un buon dato di fatto, inoltre è il mio giorno, oggi sono una regina, allora auguri alla regina di Bergamo, allora va bene facciamo così, allora auguri a quella di Bergamo che nel fattispecie oggi è la regina di Bergamo, allora tanti auguri di buon compleanno e allora chissà se invece gli auguri arrivano anche da Ambrogio Curti che è colui che ci segue di solito alle 9.05 dopo il nostro appuntamento e ci racconta un po' la musica, chissà cosa metterà questa settimana, chissà cosa metterà, chissà che cosa ci racconterà, quali saranno le storie che ci racconterà, beh facilissimo scoprirlo perché adesso ci colleghiamo con lui perché adesso Ambrogio Curti ci racconta un po' il sommario della settimana, di questa settimana, di senti questa, Ambrogio a te. The Human League, Human alle 8.12 minuti, lunedì 10 giugno, siamo arrivati nella seconda parte di trasmissione, quella dove arrivano gli ospiti, quindi buongiorno a Marco Moniga, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Benvenuto, volontario della Croce Viola a Milano, volontario di lunga data. Volontario da un paio di una ventina d'anni, forse anche qualcosa di più. Ah però, insomma, niente male e la persona giusta per raccontarci di questo ciclo di incontri, 15 totali saranno già avuti, un o due sono già rifatti, incontri nei parchi dove ci racconterete che cosa? Allora, parte di questo progetto nasce dal presupposto che alcune volte i parchi sono purtroppo oggetto di situazioni di emergenza per le persone, i corridori, piuttosto che le persone che transitano, secondo alcuni studi, sono proprio le persone che potrebbero avere qualche problema cardiaco, che vanno incontro a delle difficoltà e noi dunque nei parchi insegniamo alle persone, corridori, sportivi e soprattutto anche i padroni dei cani, a come reagire a questi momenti, per cui insegniamo il massaggio cardiaco. Infatti, perché insomma, fondamentalmente quello che è il corso diciamo di manovre d'emergenza, che molte croci fanno a Milano, che spesso si fa proprio o nella sede della croce o si va nelle aziende a fare, questa volta vi siete inventati di farlo nei parchi. Sì, questa volta questo connubio abbiamo, grazie anche a un paio di due sponsor che è il Policlinico San Donato e Monge e il patrocentro del Comune di Milano, siamo riusciti a mettere in piedi questa organizzazione proprio su questo studio che dice che i parchi sono uno dei posti in cui fuori di casa, fuori dal posto di lavoro, succedono queste emergenze. Adesso al lavoro c'è, ci dovrebbe essere l'esperto che nel caso interviene, si sa che nelle grandi aziende, i colleghi comunque si fanno i corsi, quindi nel parco effettivamente si è un po' più soli a volte, no? Corretto. Sono lì a correre, magari la faccio un po' più difficile quel giorno, esatto, magari è un problema cardiaco, il cuore non funziona più bene, bisogna agire nei quali minuti. Magari sono anche tranquillamente sulla panchina a farmi fatti miei e mi viene qualcosa, nel senso, oppure sono lì a me che mi mangio un panino e mi va di traverso, e sono lì da solo. Cosa fai? Cosa faccio? Per fortuna c'è un passante che ha fatto questo corso. E quindi durante questo corso cosa imparano? Imparano le manovre più gravi, le manovre nelle situazioni più gravi, per cui il massaggio cardiaco. L'ambulanza ci mette a Milano più o meno 7-8 minuti ad arrivare. Diciamo che è un tempo umano. È un tempo molto buono. Non mi sembra che deve stare a fare pure polemiche su quale ci mette la emergenza. Il sistema dell'emergenza funziona molto bene, onestamente, a Milano. Ma 7-8 minuti sono fondamentali. Purtroppo sono il tempo in cui il cervello si danneggia completamente se non c'è l'ossigeno che lo alimenta. E quindi le persone, i testimoni che sono lì in quel momento lì, in realtà sono gli soggetti più importanti. Perché se quei 7-8 minuti non vengono gestiti bene, cioè se qualcuno non fa pompare il cuore al posto della sua funzione normale, purtroppo la persona... Quindi diciamo che quei 7-8 minuti che sono strutturali, diciamo, nella nostra città, non è che possiamo mettere i razzi sotto le ambulanze per arrivare prima. Comunque, anzi, non arriverebbe comunque prima. O a chi arriva la chiamata, o a chi esco, o a chi preparo il traffico. Comunque, anche col teletrasporto, forse, ci vorrebbe comunque un po' di minuti in più. Quei 7-8 minuti possiamo in realtà guadagnarli se noi cittadini sappiamo cosa fare in quell'istante. Esattamente. Sono manovre molto semplici, eh Fabio? Nel senso non è che bisogna essere per fatto dei medici, non bisogna essere dei soccorritori, neanche degli infermieri. Basta semplicemente imparare in una decina, in una ventina di minuti, stando lì al parco con noi, quelle piccole e semplici manovre che consentono di risolvere la cosa. Per cui, per esempio, il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree. Anche questa è una manovra molto semplice, ma che è molto utile e purtroppo questa cosa succede in tantissimi casi, andando a fare il giro, prima ne parlavamo anche noi, andando a fare il giro nei parchi, purtroppo tantissima gente ci racconta di eventi che sono successi e del fatto che questa manovra funziona molto bene, per cui nella maggior parte dei casi si salvano tutti. Insomma, intervenire tempestivamente è quello che bisogna fare in questi casi, se lo si fa poi dopo aver fatto il corso con voi, meglio, così almeno si sa anche dove cosa mettere, perché poi il problema è anche quello, che a volte bisogna toccare, a volte no, a volte bisogna mettere in certe posizioni. Cioè, comunque, qual è la posizione quella... Posizione laterale di sicurezza, che è quella che consente di avere, di respirare anche se una persona è incosciente o non è completamente cosciente. Ovviamente bisogna chiamare il 112. Ovvio, prima cosa. Prima cosa, se non l'imbulanza non parte, quei sette minuti diventano venti, quindi... Prima cosa, prima ancora di mettere le mani, prima ancora di fare manovre, chiamate il 112, chiamate il numero unico per le emergenze. A Reu, che quindi poi a quel punto, tra parentesi, è comodo anche perché dall'altra parte c'è qualcuno che sa che in quel momento voi siete in difficoltà e vi aiuta. Sa che aiutavi, eh, c'è le persone molto brave dall'altra parte, per cui... E vi aiuta. Una cosa che mi ritengo, rispondete alle domande del 112. So che a volte sembra che vi faccia delle domande e dice, ma no, ma venite, venite, no. Deve sapere le cose, deve saperle bene, precise. Quindi se vi fate delle domande che vi sembrano strane in quell'istante, voi comunque rispondete, giusto? Sì, a Reu metto a disposizione in realtà anche un'app molto efficace. È vero, bravo, bravo. Che questa è una delle cose più complicate, perché l'ambulanza deve trovarti. Sì. E quest'app... Immagino, ad esempio, parco Sempione, parlando di parchi, sono in mezzo al parco Sempione. Bravo. Hai capito dove? Piuttosto che sei nel condominio dove c'è la scala Z. Ecco, appunto. E dov'è? Guardi, è la quinta, quando entra a sinistra, dopo la fontana scende, sale... No, effettivamente. Quindi una cosa molto furba è scaricare quest'app che ti geolocalizza, per cui dà la posizione precisa. E nel caso di condominio, visto che l'abbiamo citato, per esempio andare incontro all'ambulanza, scendere, aprire il cancello, preparare la strada, in modo che noi siamo ancora più veloci, più efficaci. Nei parchi ci siete anche perché c'è un altro motivo, che però mi racconti dopo la prossima canzone, ma che potrebbe già aver fatto capire un po' dove stiamo andando a parare, perché? Ricordami un po', grazie a chi potete fare tutta questa cosa, sono due fondamentalmente, no? Sì, Policlinico Sannolato e Monge. È forse il secondo nome che ti accende qualcosa. Ecco, questo nome qui, insomma, ci accende una spia, no? Ci accende qualcosa che forse possa avere a che fare col mondo dei nostri amici animali? Bene, parliamo fra poco, Marco, perché so che anche lì vi siete inventati qualcosa di molto interessante, che intercetta chi al parco c'è e magari gli diamo anche un servizio in più. Ovviamente, ricordiamo un attimo, quando è il prossimo appuntamento, così già se lo segno? Guarda, il prossimo appuntamento è il prossimo sabato, il 15 alle 10.30 a Parco Solari. Parco Solari, ok. Ovviamente, non mi hanno toccato tutto gratuito per chi viene, infatti, c'è, giustamente. Anzi, paga il Policlinico e Monge. In un certo senso sì. Diciamo così, dai. E poi tu vuoi sei tutti volontari, invece. Noi siamo tutti volontari, sì. Quindi, insomma, di musica e poi chissà perché Monge così vuole che andate ai parchi. E chissà, adesso parliamo, ne parliamo, ne parliamo. L'ora della Bertè, Pazza, alle 8 e 19 minuti. L'ora della Bertè con Pazza, alle 8 e 22 minuti, sempre qui su Cristal Radio, sempre qui in compagnia di Marco Moniga, Croce Viola Milano, volontario della Croce Viola Milano, che ci sta raccontando di questa iniziativa che vedrà un altro appuntamento, appunto, sabato 15 giugno al Parco Solari, dove ci insegneranno, così, on plein air, al parco, sperando anche nel bel tempo, le manovre emergenziali di primo soccorso, quindi quelle manovre per gli umani, ma non solo. Ma non solo. Infatti, perché diciamo, questo nome che giravano, ma perché? Dicevano che i corridoi, quelli che vanno a correre, stanno male nei parchi. Ma chi è che potrebbe salvarli nei parchi? Quelli che portano i cani. Quelli che portano i cani. Giusto. E quindi, perché non fai un corso anche a quelli che portano i cani? Non solo su come salvare gli umani. Ah, come salvare anche i cani. Magari come salvare anche i cani. Ah, questa adesso me la racconti, questa adesso me la spieghi. Cioè, ci sono delle manovre emergenziali che io posso fare sul mio cane per fare in modo che magari, perché ci può stare, mangio una roba. Come le persone, come le persone. E lì abbiamo, attraverso un partner, lo facciamo noi direttamente, siamo più specializzati negli umani. Negli umani. Anche sei volte sono un po' di caniacci, come dire. E quindi sì, in contemporanea abbiamo due postazioni, anzi in realtà noi abbiamo sei postazioni con i manichini più tre postazioni con i simulatori per la manovra di disostruzione delle vie aere. E dall'altra parte ci sono i manichini anche dei cani, dove i possessori di cani possono imparare le manovre di emergenza. Non solo per forza fare la rianimazione al cane, ma la disostruzione, la museruola di emergenza. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che si possono fare. La disostruzione del cane è che tutti quelli che hanno avuto il cane una volta hanno dovuto fare qualcosa che poi non si fa. Credo sia come l'umano, mai mettere la mano in bocca. Mai. Ecco, quanti graffiate da denti mentre mettevi le mani dentro per tirare fuori l'ennesima pallina, il pezzo di gomma piuma che non doveva... Anche perché poi con gli animali c'è una percezione diversa, con l'umano anche se si è portati a fare delle manovre magari un pochino più corrente perché è un animale. Invece magari ci sono le modalità che si possono utilizzare. E quindi ci insegnate anche quello, non direttamente voi, ma comunque... Insegniamo anche quello, parliamo un pochettino delle varie problematiche, facciamo un po' di di prevenzione, chiacchieriamo, cerchiamo anche nuovi volontari, perché no anche questa è una grossa opportunità, fare volontariato è veramente molto soddisfacente. E quindi allora il 15 giugno, parco Solari, gli orari sono più o meno... Gli orari sono più o meno alle 10.30 alla mattina e quando facciamo le serie di pomeriggi nei parchi, per esempio il 22 al parco Ravizza, lo facciamo verso l'è, adesso inizia a fare un po' caldo, per cui lo facciamo verso le 4 e mezza, 16.30. Perfetto, va bene. Giustamente dicevi anche una cosa, cerchiamo volontari, perché ricordiamo che è fondamentale per le croci, in questo caso appunto per la Croce Viola Milano, avere volontari, perché sì ci sono dei dipendenti, ma ci sono soprattutto anche i volontari. Noi siamo il 99% volontari, nel senso che purtroppo dobbiamo usare dei dipendenti durante il giorno, perché i volontari non ci sono più, non purtroppo nel senso che siamo contenti per loro, assolutamente, un buon lavoro anche. La sera, i weekend, i festivi, siamo tutti volontari e quindi è impegnativo, si fa la notte, il percorso di studio è un percorso comunque abbastanza lungo e quindi c'è sempre bisogno di nuove forze. Sì, sì, perché ricordiamo questo, non è che tu arrivi ci, voglio fare volontario, prego quell'ambulanza su, vai. No. No, no. E ormai il sistema sanitario è veramente molto sofisticato, per cui anche a bordo dell'ambulanza tra l'altro abbiamo attrezzature, facciamo l'etrocardiogramma a bordo dell'ambulanza, abbiamo il defibrillatore e quindi c'è tutta un diversi corsi da fare prima di essere autonomi. Ecco, sul defibrillatore magari due parole veloci, perché molti dicono ah mi insegnano ad usare il defibrillatore, no, fermi tutti, il defibrillatore non è una cosa così semplice da usare, o meglio si può fare se accompagnate da un operatore. Per cui il 112 dall'altra parte ci sono persone molto, molto brave, molto capaci di gestire le persone e le emergenze, anche perché poi dobbiamo fare conto che le persone sono in panico, quando succede questo si ha paura e quindi tante volte c'è bisogno di un aiuto e chiamando il 112 dall'altra parte trovano una persona che li guida passo passo. Insomma diciamo, la manovra salva vita è chiamare il 112. La manovra salva vita è chiamare il 112, se poi la persona è in arresto cardiocircolatorio, nello stesso caso è non respira, questo è il criterio che ci fa decidere se inizia il massaggio cardiaco, se la persona non respira, il torace non si muove, bisogna iniziare il massaggio cardiaco. Ma tutto questo dopo aver chiamato il 112 ho usato l'app, mi raccomando, in modo che i professionisti possano partire e venire a darvi una mano, piccola pausa e poi di nuovo qui a parlare ancora delle vostre iniziative e poi voglio sapere appunto le prossime date e cosa ci sarà nel prossimo futuro. Rimmel, Francesco De Gregori, 8 e 36 minuti, Cristal Radio, lunedì 10 giugno, grazie per i whatsapp che sono arrivati, grazie anche ad Alberto che prende un attimo di pausa, Marco non me ne volere, Marco Monica, Croceviola Milano, volontario della Croceviola Milano, ma Alberto ci scrive sulle elezioni, abbiamo parlato prima, dice buongiorno Fabio, buongiorno redazione, buongiorno a tutti i cristallini, weekend di elezioni e pulizie di ufficio, mamma mia, e auto, quest'ultima resa vana dal metro, se avete visto, macchine completamente piene di, ma ho capito cos'è, è perché Sinner ha vinto, l'olio hanno fatto tutte con la terra rossa per festeggiare la vittoria di Sinner e poi ci dice Alberto, purtroppo l'astensione è un problema nei nostri tempi e forse da questo la mancanza anche di senso civico e rispetto per le persone e per le cose, potrebbe darsi, è una bella chiave di lettura caro al mio Alberto, sicuramente senso civico e rispetto che invece si ritrova nei volontari della Croceviola Milano, scusate ho fatto un po' di mix di colori, della Croceviola Milano perché appunto, come dicevamo, sono tanti volontari che operano con voi e sono fondamentali. Parliamo di senso civico però, anche dei cittadini, l'iniziativa di senso civico che potrebbe esserci, è proprio quella che parlavamo prima, di seguire un corso che insegna che cosa fare. Giusto. Dicevamo, i primi minuti sono i più importanti, prima che contano, fanno la differenza, fate un corso di manovre di emergenza, di rianimazione, di massaggio cardiaco, sono nella maggior parte gratis, costano pochi euro che poi vanno in tasca alle Croce. Non posso dire, buttiamo via i soldi per delle boiate allucinanti, cioè uno sono quasi sempre gratuiti questi corsi, due se costano veramente poco, sono delle donazioni che vanno appunto alle Croce, quindi insomma, fatelo. Imparate, fatelo, serve a voi, servono ai vostri familiari, servono alle persone che ci sono intorno. È questo che è fondamentale, perché appunto serve poi, non vi succede mai niente a voi, così pensate, poi in realtà le cose succedono. Ma sì, ma guarda, poi spesso in termini dicevi, a volte poi ci accorgiamo anche di come anche altre cose, cioè se solo si fosse fatto qualcosa. Per esempio, uno dei corsi che facciamo adesso, stiamo facendo dei corsi nelle aziende, abbiamo invitato un po' per autofinanziarsi, un po' per diffondere la cultura del soccorso, abbiamo sviluppato questo progetto e proprio oltre a manovre di emergenza classiche, abbiamo fatto un programma proprio sulla base della nostra esperienza, tante volte ci capita di andare nella casa delle persone a soccorre e pensare, ah, se avessero fatto questo, oppure se non avessero fatto quest'altro le cose sarebbero andate meglio. E per cui abbiamo trovato quelle tre, quattro situazioni in cui le persone possono davvero fare la differenza e le spieghiamo, se riuscite a seguire le persone dei nostri corsi o uno corso dei nostri amici e delle altre croci, è una cosa perfetta, per cui magari come riconoscere l'ictus, se si riconosce subito l'esito di questo terribile evento si riduce tantissimo, piuttosto che cosa fai quando trovi il padre e il nonno per terra in casa. Molto spesso gli anziani hanno le ossa un pochino più fragili e noi li troviamo sempre poi che li tirano su, li mettono seduti sulla seggio, li rimettono a letto e poi si scopre che hanno il femore rotto normalmente. E quindi basterebbe veramente poco? Basterebbe non farlo, basterebbe chiamare noi, noi veniamo subito, si riconosce abbastanza facilmente, se abbiamo un dubbio lo portiamo in ospedale e la persona avrebbe molto meno male, si eviterebbe di muoverlo tante volte, come per esempio del fatto dell'ictus, l'ictus c'è, se viene riconosciuto subito, c'è una procedura che possono fare in ospedale se si arriva in quattro, quattro ore e mezza, adesso lo chiamolo stura lavandini delle vene, ma c'è un mister muscolo, esatto, tante volte l'ictus può essere per due cause, una di queste è che si tappano alcuni vasi sanguini che ci sono all'interno del cervello, si riesce a stapparli se si fa in tempo e quindi è molto importante. È importante riconoscerli, come riconoscerlo? Veniamo a fare un corso. Venite a fare un corso, sì, sì. Dove possiamo trovare un po' di informazioni, oltre a trovare gli orari precisi del 15 giugno al Parco Solari, del 22 giugno al Parco di Pagano e poi al Parco Ravizza, di queste iniziative che appunto parlavamo oggi. Potete seguire i social, per cui Facebook, Instagram, TikTok, Croce Viola Milano, oppure il nostro sito www.croceviola.org. Ok, lì trovate tutto e magari trovate anche sicuramente un po' di informazioni su come fare l'aventare volontaria. È bellissimo fare volontaria, è veramente bello. Gli inglesi direbbero una situazione win-win, perché in realtà fai del bene, nel senso è un'occasione di essere un piccolo supereroe, a me piace definirlo così, una volta alla settimana trovati nella situazione giusta ed essere la persona giusta per aiutare le persone, grazie ai corsi che facciamo, grazie a un percorso che comunque non è banalissimo perché si ha a che fare con la vita delle persone, nessuno di noi è medico, a bordo delle ambulanze non ci sono medici. Poi per fortuna abbiamo una serie di macchine avanzate sul territorio di Milano che intervengono quando è il caso. A me piace molto questa cosa in realtà che non ci sono medici sulle vostre ambulanze, perché fa capire come davvero se ben formati, se qualsiasi cittadino, chiunque di noi può diventare quello che fa la differenza. Sì, soprattutto a Milano, dove gli ospedali sono vicini, per cui ha molto senso la persona trasportarla velocemente e correttamente all'ospedale. Io dubito che qualcuno che sia stato tirato su da una croce in mezzo alla strada dopo un incidente o che è stato portato via da casa perché stava male così, aveva chiesto scusi ma lei è medico, lei è dipendente, lei è volontario, che cos'è lei? Mi dica, sei ben contento che ti prendono e ti salvano la vita in quel momento? O che comunque magari a volte non è che per forza dovete salvare le vite, ma risolvere le situazioni. Sì, la gestione, poi le persone quando stanno male hanno paura, per cui anche l'aspetto psicologico è veramente molto importante e in qualche modo il volontario secondo me in questo fa la differenza, perché facendolo una volta a settimana non sviluppi quel minimo di protezione cinica che purtroppo il professionista deve per forza sviluppare e quindi il volontario dà quel qualcosa in più, quella capacità umana che in realtà aiuta moltissimo la persona che sta male e anche i parenti. In più, diciamolo anche, non è che far montare il croce, il croce sia sempre che vedete di situazioni drammatiche ogni volta, cioè nel senso, c'è questa bruttissima immagine del li vai a prendere con un cucchiaino sulla stanza, c'è questa cosa qua che la da dico. A Milano, onestamente succede molto molto poco, le macchine vanno piano, ci sono gli airbags, sono le cinture, per cui capita anche alcune volte di andare su un incendio dove c'è la macchina ribaltata, non c'è dentro nessuno e trovi la persona di fianco a fumare, per fortuna. La tecnologia aiuta per fortuna in questo caso. Però appunto vuol dire che, e poi immagino che non è che tutti vadano subito a fare certi interventi, non è che io arrivo domani, cioè non è che se stasera vengo, voglio fare volontario, prego mi porti, andiamo a tirare su quelli lì che... No, no, c'è un corso che dura mesi, due sere, settimane, due mesi, 120 ore, un corso regionale che stabilisce Areu e che ti consente di essere poi autonomo nella gestione del suo corso extraospedaliero fatto a Milano, per cui riconoscere bene, essere gli occhi del 118, che in qualche modo poi il 118 sempre ci controlla e con lui e con la centrale operativa abbiamo un continuo scambio di informazioni, di direttive ed essere molto bravi a trasportare le persone dal luogo dell'intervento all'ospedale che è il posto fondamentale dove possono trovare le cure migliori. Marco, grazie allora, davvero, grazie mille, ricordiamo l'appuntamento di sabato? L'appuntamento di sabato 15 alle ore 10.30 al Parco Solare, weekend successivo la mattina a Pagano nel Parco Vergani e il pomeriggio dalle 16.30 quando inizia a fare un pochettino meno caldo a Parco Ravizza. Manovre emergenziali per umani e non solo, quindi anche per i nostri amici animali, quindi insomma potete davvero imparare tanto, conoscere in realtà delle croci che sono fondamentali e magari potete diventare un volontario anche di Croce Viola, poi potete andare anche se non volete diventare volontario, adesso c'è un paura che date lì, li portate... No, 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 non li costringiamo. Non vi costringono, però insomma se vi viene in voglia non è male. Ricordiamo, tutto gratuito, grazie ai nostri sponsor Policlinico Sandonato Monge e con anche ovviamente il patrocino del Comune di Milano. Bene, grazie mille Marco Monica allora di Croce Viola Milano, grazie a te Fabio dell'opportunità. Salutarci tutta la Croce e tutti i volontari. Speriamo, come si dice sempre, di non vederci mai. Spero di vedervi ancora qui con altre iniziative infatti. Grazie mille allora ancora Marco, adesso un po' di musica, andiamo avanti e poi ci troviamo qui per i saluti finali, sempre qua su Cristal Radio. Good Morning Milano! 8 e 54 minuti lunedì 10 giugno, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano! E quindi non dimenticatevi appunto l'appuntamento di sabato 15 giugno con la Croce Viola Milano al Parco Solari dalle 10 e mezza del mattino per questo corso di manovre di emergenza umane e non solo perché appunto anche i nostri amici animali potranno essere aiutati grazie alle manovre che ci insegneranno al Parco Solari il 15 giugno. Dopo di noi, lo avete già sentito prima, c'è Ambrogio Curti con SentiQuesta, sapete già un po' più o meno che cosa vi andrà a raccontare ma insomma sicuramente vi siete già appassionati all'idea di sentire le sue storie e quindi dopo di noi, dopo il giornale radio, c'è lui, Ambrogio Curti con SentiQuesta. Chiedo scusa a tutti quelli che hanno scritto Whatsapp in questi giorni e che non si sono sentiti letti in diretta perché abbiamo scoperto questa mattina che avevamo Whatsapp per metà bloccato e quindi non arrivavano dei messaggi, sono arrivati stamattina poi dei messaggi di mercoledì quindi io vi chiedo scusa se non vi abbiamo ignorato, proprio non vi erano arrivati i Whatsapp sono arrivati tutti, quindi recupero in questi giorni. Se invece volete recuperare la sveglia, domani mattina come sempre dalle 7 alle 9 siamo qui Good Morning Milano, vi svegliamo, vi raccontiamo un po' la città, vi facciamo sentire storie interessanti insomma tutti i giorni qui su Crystal Radio. A domani, buona giornata a tutti, ciao ciao!